Introduzione a Pentera, la piattaforma leader nella validazione automatizzata della sicurezza. Con Pentera puoi testare in sicurezza tutta la tua superficie di attacco come un avversario, per convalidare i tuoi controlli di sicurezza, migliorare la tua prontezza alla sicurezza e ridurre l'esposizione. La piattaforma ha tre prodotti principali, Core, Cloud e Surface. Iniziando con Pentera Core puoi identificare le lacune di sicurezza sfruttabili all'interno della rete dell'organizzazione. Configuriamo un nuovo test Pentera con pochi clic. Innanzitutto configura l'intervallo di IP che desideri testare. Successivamente regola l'intensità del test da un modo rumoroso a un modo di attacco molto furtivo. Infine imposta il test per eseguirlo istantaneamente o definisci il tuo programma preferito. Ecco fatto. Il test è ora in esecuzione. Senza alcun agente, Pentera convalida automaticamente i tuoi controlli di sicurezza. Migliaia di vettori di attacco vengono generati e tentati con il motore di attacco algoritmico di Pentera. Pentera inizia scoprendo tutti gli asset nella tua rete e le loro vulnerabilità. Sulla base di questi risultati, Pentera tenta in modo sicuro passaggi di attacco etico, identificando le lacune di sicurezza sfruttabili. Ogni azione di attacco riuscita è segnata come un risultato. Quando si sceglie un risultato, Pentera mostra il contesto completo del percorso di attacco. In questo esempio, Pentera ha svelato una catena di attacco dalla causa principale, una configurazione errata, all'obiettivo finale, la creazione di un account amministratore di dominio. Correggere la causa principale elimina l'intero attacco, impedendo agli avversari di ottenere accesso privilegiato ai sistemi dell'organizzazione. Hai appena scoperto un enorme rischio per l'azienda. E utilizzando la guida passo passo di Pentera, sai come prevenirlo con un semplice cambiamento di configurazione. Pentera Cloud funziona in modo simile, testando gli ambienti nativi del cloud. Insieme a Core, convalida l'esposizione agli attacchi ibridi on-premises e cloud. Qui Pentera ha scoperto un percorso di attacco completo in un ambiente ibrido azzurro. Una chiave di accesso esposta pubblicamente, trovata su un servizio app, ha permesso l'esecuzione di comandi su un carico di lavoro per estrarre le credenziali. Pentera ha utilizzato queste credenziali per passare a un server web on-premises, iniettando codice dannoso per acquisire le credenziali di amministratore di dominio. Con questo percorso di attacco critico dal cloud alla rete Core scoperto, puoi agire immediatamente e bloccarlo. Hai convalidato la sicurezza della tua rete interna e degli ambienti cloud. Ora è il momento di esaminare la tua superficie di attacco esterna. Pentera Surface offre le stesse capacità di validazione della sicurezza dall'esterno verso l'interno. Mappa continuamente tutti gli asset esposti a Internet, noti e sconosciuti, della tua organizzazione e mostra cosa li renderebbe attraenti per gli avversari. Zoomando su un particolare asset, si rivela un percorso di attacco validato che origina dal web. In questo caso Pentera ha scoperto una grave vulnerabilità di esecuzione di codice remoto tramite il servizio Oracle WebLogic. Un attaccante che sfrutta questa vulnerabilità potrebbe potenzialmente prendere il controllo dell'app web ed effettuare ulteriori attacchi. La vulnerabilità verrà immediatamente inserita nella lista di rimedio chirurgico di Pentera per la gestione. Tornando alla piattaforma, c'è di più. Pentera offre moduli aggiuntivi che convalidano la sicurezza contro credenziali compromesse e minacce ransomware. Prima di tutto l'esposizione delle credenziali. Pentera sfrutta più flussi di dati, raccogliendo milioni di credenziali trapelate dal web aperto e dal dark web. Pentera Surface utilizza queste credenziali per tentare di accedere agli asset esposti all'esterno, individuando le identità a rischio immediato di compromissione. All'interno della rete, il motore integrato di cracking e delle password di Pentera Core valuta la robustezza delle credenziali Active Directory dei tuoi utenti. Pentera identifica ulteriormente l'esposizione delle credenziali convalidando le credenziali trapelate e le loro permutazioni contro Active Directory. Continuando con il modulo Ransomware Ready. Testare le tue difese contro un attacco ransomware Lockbit 3.0 è facile. Pentera emula in modo sicuro vettori di attacco ransomware completi. Dalla criptografia dei dati alla connessione di comando e controllo per l'esfiltrazione, fino alla terminazione del servizio e alla cancellazione dei registri, capisci dove le tue difese sono carenti e agisci immediatamente. Alla fine di ogni test Pentera viene prodotto istantaneamente un rapporto da condividere con tutti gli stakeholder della sicurezza e dell'IT. Il rapporto inizia con un riepilogo esecutivo, fornendo una visione completa della postura di sicurezza dell'organizzazione nel tempo. Fornisce inoltre informazioni dettagliate su cui i team di sicurezza possono agire, mostrando tutti i risultati mappati al framework MitreAttack e elencando le vulnerabilità sfruttabili priorizzate in base al loro impatto sul rischio. Infine, il Wiki di rimedio integrato di Pentera fornisce un piano d'azione dettagliato per eliminare efficacemente le esposizioni. Pentera, valida la tua sicurezza per ridurre con fiducia le esposizioni.